Musica Buondi a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico vestito top down che ho deciso di chiamare Flowers Questo perché il filato che ho utilizzato per poterlo realizzare è la fantastica cake della Yann Art linea floralpaca Il colore che ho usato io questa volta è il 421, sapete che io ho già utilizzato questa cake qualche settimana fa per un poncho Questa volta ho deciso di utilizzarlo per un vestito E vi dico già che ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 e per realizzare questo vestito che mi arriva ad altezza al ginocchio Ho utilizzato una sola cake Una cake va bene anche se siete una taglia M ma mi raccomando se siete una taglia L o XL avete bisogno di due cake Se siete taglia S o taglia M e la volete ancora più lunga vi consiglio anche in questo caso due cake Naturalmente questo vestito si può fare con molti aumenti Comunque voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sul mio sito Ce ne sono veramente tanti, lo trovate disponibili sul sito Filati Elsa di cui lascio sempre il link in descrizione Guardate questi che meraviglia Questo ha la sfumatura del sabbia e del grigio Questo ha del grigio e del verde e del giallo Ma ce ne sono veramente di cake Una più bella dell'altra Con cui dare le sfumature che più vi piacciono al vostro abito Detto ciò come sempre vi dicevo Per una taglia M e M una cake Se la volete fare più lunga due cake Per una taglia L e XL due cake E potete fare tutti gli aumenti che volete La lavorazione in realtà è semplicissima E top down Per fare gli aumenti si fanno tre giri Che vi permettono appunto di allargare e di dar vita a queste strisce alternate E naturalmente potete fare come vedete molti più aumenti Quindi anche chi ha molto seno non vi preoccupate Potete fare degli ulteriori aumenti Io ho fatto questi aumenti solo sullo sprone E poi sono andati a farlo qui in basso Per avere appunto la gonna più larga sotto Voi come ho detto io qui ho fatto solo un aumento Voi ne potreste fare anche più di uno Per avere ancora la gonna più voluminosa Però in quel caso vi consiglio di iniziare un po' prima Perché ho iniziato diciamo ad altezza giù dei fianchi Mentre voi dovreste iniziare un po' prima Solo che io lo volevo svasato sotto e non troppo qua Quindi per questo ho dato per questa Di fare gli aumenti un po' più in basso E come vi ho detto potete fare la gonna anche tutta lunga Quindi fino ai piedi usando due cake Detto ciò Spero che anche questa creazione vi piaccia Che desiate realizzarla E se è così mi raccomando Poi mandatemi le vostre foto O sulla mia pagina Facebook O sul gruppo Facebook La libertà di incidentare e sferuzzare Oppure potete taggarmi su Instagram Dove mi troverete come Elsa faccio E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial Ah piccola cosa Soltanto per il primo giorno dall'uscita del video Per chi acquista la flor alpaca Avrà in omaggio anche il pdf Dove vi scrivo passo per passo Come realizzare questo vestito Anche in altre taglie Per realizzare il nostro vestito Io ho deciso di utilizzare Le cake della Yannat linea flor alpaca Il colore che ho scelto io È questo Che è il 421 Che adoro È bellissimo Però qui come potete vedere Ci sono anche altri colori Ma sul sito ne trovate veramente tantissimi Attualmente solo due colori sono terminati Quindi gli altri sono ancora tutti disponibili Detto ciò Vi dico già che io farò però un piccolo campione Perché io il filo qui l'ho preso dall'interno Ed è scuro Un grigio scuro Quindi non si vede tantissimo E ho preferito quindi iniziare con un filato diverso Lavorando sempre con lo stesso uncinetto Per farvi vedere il campione Ve lo faccio vedere Ecco qua si vede che io Sono già avanti Però non vi preoccupate Io nel tutorial ho già registrato i passaggi Per quando ho messo il marca punti Però è per farvi vedere appunto La lavorazione e come viene Allora io vi dico qua Ho montato con l'uncinetto del 4,5 90 catenelle Che mi permettono di ottenere uno scollo di circa 60 centimetri Proprio tutta la catenella Circa 60 centimetri Mi raccomando Taglia M e taglia L Io non me la sento di dirvi di andare a mettere più catenelle Perché come potete vedere lo scollo è bello largo Ma naturalmente di fare qualche giro di aumenti in più Rispetto a me Io poi vi dirò anche quanti giri ho fatto di aumenti dopo Quindi però se proprio volete aumentare La lavorazione che devo fare si ottiene su un multiplo di 6 Quindi al massimo o aumentate di 2 o di 4 motivi Se aumentate di 2 poi vi troverete un motivo in più Per il davanti e uno per il dietro Se aumentate di 4 vi troverete un motivo in più per le maniche Però ripeto Magari forse solo chi è taglia L e XL In quel caso andate a mettere appunto 4 motivi in più Ma per le altre taglie Quindi una M Una M tendente alla L Io vi direi Lasciate lo stesso numero di catenelle che ho usato io Andate a fare solo gli aumenti in più Rispetto a me Per allargare appunto il vostro sprone E quindi poi averlo più largo rispetto al mio Però avendo sempre poi lo stesso numero di motivi da dividere Detto ciò quindi andiamo a vedere come si lavora il nostro motivo Io qui ho un piccolo campione Come potete vedere ho scelto un colore bello acceso Che così si può vedere Perché so che alcuni di voi ultimamente hanno un po' di difficoltà A vedere i colori un po' più scuri Quindi ho deciso anche quando faccio i motivi Il campione di farvi vedere comunque con un colore bello lucido Cioè perché si vede bene Quindi a questo punto possiamo iniziare E andiamo a fare 2 catenelle Che sono a sta prima maglietta non chiusa Riprendo il filo Rientro e vado a fare un'altra maglietta non chiusa Scusate io sto prendendo anche il filo che mi era avanzato In modo tale da poter Poi non avere il filo che sia Penella di separazione Salto 2 catenelle Entro nella terza e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione Salto 2 catenelle Entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse 1, 2 Le chiudo insieme Catenella Rientro altre 2 maglie alte non chiuse 1, 2 Catenella di separazione Salto 2 catenelle Ricomincio da capo Entro nella terza e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione Salto 2 catenelle Entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte non chiuse 1 e 2 E le chiude insieme Catenella di separazione Rientro altre 2 maglie alte non chiuse 1, 2 Le chiude insieme Catenella di separazione Salto 2 catenelle Ricomincio da capo Quindi maglia alta Catenella di separazione Salto 2 catenelle Entro nella terza e vado a fare il gruppo di 2 maglie alte Una Non scusate una maglia alte non chiuse E le chiude insieme Catenella Rientro altre 2 maglie alte non chiuse E le chiude insieme Catenella di separazione Salto 2 catenelle E continuo così per tutto il giro Vi farò vedere come terminare Come iniziare poi al secondo Ho fatto la maglia alta E la catenella di separazione Devo andare a chiudere il giro Quindi entro nella prima catenella iniziale Dove ho fatto le mie 2 maglie alte chiuse insieme Scusate che non riesco ad andare a prendere Ok e vado a fare 2 maglie alte non chiuse Una Due Le chiude insieme Scusate Devo togliere Le chiude insieme Catenella di separazione Entro dove ho le prime 2 maglie chiuse insieme Vado a fare una maglia bassa Secondo giro 2 catenelle che sono sta prima maglia alta Non chiusa Entro nell'archetto del ventaglio E vado a fare un'altra maglia alta Non chiuse le chiude insieme Catenella di separazione Vado dove ho la maglia alta E vado a fare Questo lo faremo per tutto il giro Una maglia alta Catenella Rientro un'altra maglia alta Catenella Vado nel ventaglio Nell'archetto del ventaglio Vado a fare il mio ventaglio Quindi 2 maglie alte non chiuse Una Due Le chiude insieme Catenella di separazione Rientro 2 maglie alte non chiuse Una Due E le chiude insieme Catenella di separazione Ricominciavo da capo Vado dove ho la maglia alta E realizzo Una maglia alta Catenella Rientro un'altra maglia alta Catenella Catenella di separazione Vado nell'archetto del ventaglio Vado a fare il mio ventaglio Due maglie alte non chiuse E le chiude insieme Catenella Rientro altre due maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenella di separazione Vado dove ho la maglia alta Realizzo una maglia alta Catenella Rientro un'altra maglia alta Catenella Vado nell'archetto del ventaglio Vado a fare il mio ventaglio Quindi due maglie alte non chiuse E le chiude insieme Rientro Altre due maglie alte E scusa Catenella di separazione Altre due maglie alte non chiuse Le chiude insieme Catenella di separazione Ricomincio da capo Devo fare questo per tutto il mio secondo giro Sto terminando anche il secondo giro Ho fatto la maglia alta Catenella e maglia alta La catenella di separazione Entro nell'archetto iniziale Il ventaglio Vado a fare due maglie alte non chiuse Le chiude insieme Catenella di separazione E entro dove ho le due maglie alte Chiuse insieme Vado a fare una maglia bassa Terzo giro E andiamo a fare sempre il ventaglio Quindi due catenelle Rientro maglia alta Non chiusa E le chiude insieme Catenella di separazione Vado nell'archetto Delle due maglie alte E vado a fare il mio ventaglio Quindi due maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenella di separazione Rientro altre due maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenella di separazione Ricomincio da capo Vado nel ventaglio E vado a fare il mio ventaglio Quindi due maglie alte Non chiuse Catenella Rientro altre due maglie alte Non chiuse Catenella di separazione E si ricomincia da capo Vado della dove ho le due maglie alte E vado a fare il mio ventaglio 2 maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenella Rientro Due maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenella Vado nel ventaglio Vado a fare il mio ventaglio Due maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenella Rientro Due maglie alte Non chiuse E le chiude insieme Catenelle Ricomincio da capo Quindi nel terzo giro Dobbiamo andare a fare Tutti i ventagli nei ventagli intese come due maglietti chiusi insieme separati da una catenella Sto terminando anche il terzo giro fatto la catenella di separazione entro nell'archetto del ventaglio iniziale e vado a fare le mie due maglie alte catenella di separazione entro dove alle due magliette chiusi insieme faccio la maglia bassa vedete che la chiusura all'inizio del giro sarà sempre uguale perché questo non cambia Quarto giro andiamo a fare sempre le due catenelle Rientriamo nell'archetto ne ho fare una maglia alta non chiusa le chiudiamo insieme catenella di separazione vado nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte non chiuse catenella di separazione rientro maglia alta catenella di separazione rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiude insieme ora questo da questo giro dal quarto sono faremo i tre giri che servono per fare sempre gli aumenti quindi questo quarto giro in realtà è il primo giro dei tre che ci servono per fare sempre gli aumenti perché poi si farà sempre in questa maniera solo che cambierà sempre qualcosina però vi faccio vedere più in là quindi catenella di separazione vado nel mio ventaglio vado a fare il mio ventaglio due maglie alte chiusi insieme catenella rientro due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado nell'archetto di una catenella del ventaglio successivo e ricomincio da capo due maglie alte non chiuse una due le chiude insieme catenella di separazione rientro maglia alta catenella di separazione scusate non ho capito perché qua c'è un marca punti che si è attaccato al filo rientro altre due maglie alte non chiuse una due catenella di separazione vado nel ventaglio successivo vado a fare il mio ventaglio due maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione facciamo un piante insieme vado nell'archetto successivo e vado a fare due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione rientro maglia alta catenella di separazione rientro due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio due maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella rientro due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il quarto giro sto per terminare anche il quarto giro ho fatto la catenella di separazione quindi i termini al mio ventaglio entrando nell'archetto iniziale e facendo due maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella entro nel gruppo delle due maglie alte iniziali faccio una maglia bassa quinto giro e avrò a fare due catenelle rientro maglia alta chiude insieme catenella di separazione vado tra il gruppo di due maglie alte la maglia alta e faccio due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta catenella rientro maglia alta catenella di separazione prendo il filo vado tra la maglia alta il gruppo di due maglie alte e vado a fare il mio gruppo di due maglie alte quindi una e due e le chiude insieme catenella di separazione vado dove ho il ventaglio e faccio il mio ventaglio due maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella rientro altre due maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella e ricomincio da capo prendo il filo vado tra le due maglie alte chiusi insieme la maglia alta e vado a fare due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta catenella rientro mai alta catenella di separazione vado tra la maglia alta il gruppo di due maglie alte del giro precedente e vado a fare due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado dove ho il mio ventaglio e faccio ventaglio due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella rientro due maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella di separazione e facciamo ultima volta insieme prendo il filo vado tra le due maglie alte la maglia alte vado a fare il mio gruppo di due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione va dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta catenella vado tra la maglia alta la catena e le due maglie alte realizzo due maglie alte e le chiude insieme catenella di separazione vado nel ventaglio e di nuovo ad affari mio ventaglio 2 maglie alte chiusi insieme catenella rientro 2 maglie alte chiusi insieme chiudo catenella di separazione e ricomincio da capo devo fare questo quindi per tutto il mio quinto giro e vedete che la lavorazione va sempre ad allargarsi di più sto terminando il quinto giro chiudo sempre facendo due maglie alte chiusi insieme all'interno del primo archetto catenella vado dove le due maglie alte chiusi insieme faccio maglia bassa sesto giro 2 catenelle rientro maglia alta chiude insieme catenella di separazione a questo punto vado tra la due gruppo e 2 maglie alte la maglia alta e vado a fare due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi in cui il ventaglio abbiamo maglia alta catenella maglia alta e vado a fare due maglie alte chiusi insieme catenella rientro altre due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado nel l'archetto successivo e vado a fare i miei due maglie alte e le chiude insieme catenella di separazione e si ricomincia da capo vado nel ventaglio vado a fare il mio ventaglio 2 maglie alte e le chiude insieme catenella 2 maglie alte e le chiude insieme catenella di separazione e vado a fare tra il gruppo di 2 maglie alte la maglia alta un gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio formato da una maglia alta catenella in maglia alta vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte non chiuse le chiude insieme catenella rientro altre due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione e vado tra la maglia alta e il gruppo di due maglie alte e vado a fare al mio gruppo di due maglie alte catenella di separazione ricominciamo da capo ventaglio nel ventaglio quindi 2 maglie alte chiusi insieme catenella 2 maglie alte chiusi insieme catenella vado tra il gruppo di 2 maglie alte la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte catenella di separazione vado nel ventaglio e di nuovo da fare 2 maglie alte catenella rientro 2 maglie alte chiuse insieme catenella di separazione vado tra la maglia alta le 2 maglie alte vado a fare il mio gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione si ricomincia da capo quindi devo andare a fare questo per tutto il mio sesto giro allora sto per terminare il sesto giro chiudo sempre facendo le due maglie alte chiusi insieme nel primo archetto del giro catenella di separazione entro dove le due maglie alte vado a fare una maglia bassa ora dobbiamo ripetere i tre giri per fare gli ulteriori aumenti quindi vado sempre a fare le due catenelle rientro dentro sempre nell'archetto e vado a fare la maglia bassa scusatemi vado a fare la catenella di separazione e a questo punto vado a lavorare in questa maniera prendo il filo tra i due gruppi di 2 maglie alte vado a fare il mio gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione nel ventaglio lo chiamo ventaglio perché è all'interno della stessa base vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella rientro maglia alta catenella rientro 2 maglie alte chiusi insieme 1 2 catenella di separazione vado dove ho l'archetto di 2 e di una catenella che separa dei due gruppi di due maglie alte e vado a fare i due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione si ricomincia da capo quindi vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio 2 maglie alte catenella rientro 2 maglie alte catenella di separazione vado tra i gruppi di due maglie alte vado a fare due maglie alte non chiuse 1 2 e le chiude insieme catenella di separazione vado nel mio ventaglio e vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione rientro maglia alta catenella di separazione rientro 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra i due gruppi e vado a fare 2 maglie alte non chiusi le chiude insieme catenella di separazione si ricomincia da capo di nuovo ventaglio quindi 2 maglie alte chiusi insieme catenella 2 maglie alte chiusi insieme catenella vado nel gruppo di 2 provato tra i due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella vado nel lacchetto e di nuovo 2 maglie alte chiusi insieme catenella rientro maglia alta catenella rientro di nuovo 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra i gruppi di 2 maglie alte vado a fare i miei due maglie alte chiuse insieme e continuo così quindi per tutto il settimo giro vedete noi stiamo andando ad allargare ultimamente le strisce mentre quella centrale che separa quelle che allarghiamo restano uguali sto terminando anche il mio settimo gruppo di nuovo da fare il gruppo di due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme iniziali vado a fare maglia bassa ottavo giro 3 catenelle 2 catenelle rientro maglia alta catenella di separazione prendiamo il filo andiamo tra i due gruppi di due maglie alte e andiamo a fare due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e realizzo maglia alta catenella rientro maglia alta catenella rientro tra il maglie tra la maglia alta il gruppo 2 maglie alte vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra i due gruppi di 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione si ricomincia da capo ventaglio nel ventaglio quindi 2 maglie alte e le chiediamo insieme catenella 2 maglie alte e le chiudiamo insieme catenella di separazione vado tra i due gruppi di 2 maglie alte e vado a farmi 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra il gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado dove o la maglia alta e realizzò una maglia alta catenella rientra un'altra maglia alta catenella vado tra la maglia il gruppo di 2 maglie alte vado a fare il gruppo di 2 mai alt e chiusi insieme una 2 chiude insieme catenella gruppo successivo di nuovo due maglie alte chiuse insieme catenella di separazione e ricomincio dal capo ventaglio nel ventaglio quindi 2 maglie alte non chiuse e chiuse insieme catenella 2 maglie alte non chiuse chiuse insieme catenella vado 32 e vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella vado tra i gruppi dal gruppo di 2 maglie altri la maglia alta e va da fare 2 maglie altri chiusi insieme catenella vado doveva la maglia alta realizzo una maglia alta catenella rientro maglia alta catenella di separazione vado tra la maglia alta il gruppo di due maglie alte chiusi insieme e faccio le due maglie alte chiusi insieme catenella vado tra i due gruppi successivi due maglie alte chiusi insieme catenelle ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio ottavo giro dobbiamo finire il nostro ottavo giro fatto la catenella di separazione chiudo andando a fare sempre due maglie alte chiusi insieme la catenella dentro del gruppo di due maglie alte chiusi insieme le chiude insieme a questo punto possiamo andare a fare il nono giro 2 catenelle rientro maglia alta chiudo catenella di separazione vado tra i gruppi di due maglie alte chiusi insieme vado a fare le due maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra la maglia alta e le due maglie alte chiusi insieme e vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio 2 maglie alte chiusi insieme catenella rientro 2 maglie alte chiusi insieme catenella vado tra la maglia alta il gruppo di 2 maglie alte di nuovo 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra i due gruppi e vado a fare le mie 2 maglie alte chiusi insieme vedete come si sta allargando la lavorazione continua quindi catenella di separazione vado nel ventaglio vado a fare il mio ventaglio 2 maglie alte chiusi insieme catenella rientro 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado dovevo le 2 maglie alte il gruppo di 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado tra il gruppo di 2 maglie alte la maglia alta e vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione vado nell'acchetto del ventaglio e di nuovo due maglie alte e le chiude insieme catenella rientro due maglie alte chiusi insieme catenella vado tra la maglia alta il gruppo di due maglie alte e vado a fare i miei due maglie alte chiusi insieme catenella archetto successivo di no 2 maglie alte chiusi insieme catenella di separazione ricomincio daccapo quindi vedete si fanno sempre questi tre giri per poter aumentare termino questo giro vi farò vedere come andare a fare non più l'aumento ma il giro senza più aumenti ho quindi finito anche il nonno giro allora adesso vi faccio vedere sia cosa dovete fare se non fate più gli aumenti sia invece cosa dovete fare se avete bisogno di fare ulteriori aumenti non dovendo fare più aumenti noi andiamo sempre ripetere il decimo giro quindi andiamo sempre a fare due catenelle rientriamo maglia alta le chiudiamo insieme catenella di separazione gruppo di due maglie alte chiusi insieme tra i primi due gruppi di due maglie alti chiusi insieme catenella di separazione secondo vado tra i successivi due gruppi due maglietti faccio e due maglie alti chiusi insieme catenella di separazione entrò nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi il gruppo di due maghi alte chiusi insieme catenella rientro altre due maglie alte chiuse insieme catenella di separazione vado tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme vado a fare i miei due maglie alte chiuse insieme catenella di separazione vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme catenella di separazione vado a fare il mio ventaglio quindi questo è quello che bisogna fare se non si fanno più aumenti se invece avete bisogno di fare ulteriori aumenti e sicuramente io ancora non so quanti momenti ho fatto allora andate a fare in questa maniera quando arrivate a fare il ventaglio nell'archetto centrale andate a fare il primo gruppo di due maglie alte chiuse insieme la catenella rientrate maglia alta catenella rientrate due gruppo il secondo gruppo di due maglie alte chiuse insieme catenella di separazione poi tornate a lavorare normalmente e ripetete quindi il tre giri quindi il quarto il quinto e il sesto mi raccomando poi naturalmente avrete più strisce di gruppi di due maglie alte vedete io qua una striscia una seconda e poi direttamente il ventaglio mentre se si fa un ulteriore aumento si avrà una striscia seconda striscia terza striscia il ventaglio e tre strisce di gruppi di due maglie alte anche da questa parte alternato sempre al nostro una striscia di ventagli perché questi appunto sono dei ventagli quindi questo è per fare ulteriormente se invece non bisogna fare più aumenti si va a lavorare normalmente l'ultimo giro fatto ossia l'ultimo dei nostri tre giri fatti ricordandovi sempre che nella parte centrale qui poi faremo il ventaglio all'interno di ogni ventaglio in modo tale appunto da lavorare con senza fare più aumenti io adesso continuo il video quindi vi dirò quante volte ho fatto gli aumenti quanti giri ho fatto senza fare gli aumenti e come sono andata a dividere per poter mettere i marca punti allora io ho terminato il mio sprone allora vi dico che dal dalla catenelle a giù sono 15 centimetri e io ho ripetuto i gici ho fatto 11 giri di cui gli ultimi tre sono uguali questo perché dopo il secondo aumento non ne ho fatti più quindi gli ultimi due giri sono stati uguali a quello che abbiamo fatto appunto quanto vi ho detto quando vi ho spiegato il punto ho ripetuto sempre l'ultimo giro dei tre che servono per fare il nostro aumento quindi sono andata a fare il terzo e giro quindi ne ho fatti in totale di giri partendo dal primo fino all'ultimo 11 e ho fatto due aumenti in realtà 3 1 2 3 perché il primo è un aumento quindi 123 aumenti e gli ultimi due giri senza più aumenti ripetendo l'ultimo giro del mio ultimo aumento quora vado a metri marca punti per metri marca punti io sono andata a contare le mie strisce queste qui che si vanno ad allargare e ho messo in questa maniera ne ho messi tre per le maniche quindi su 123 e nella che nella linee dove ho il mio ventaglio messi marca punti sia avanti che indietro e ho fatto in modo di mettere la fine del giro con l'inizio così poi possiamo continuare la lavorazione partendo proprio dal marca punti quindi 3 e ho messo come vi ho detto tre strisce di quelle che si vanno allargare per maniche 5 strisce avanti 4 strisce dietro avanti la strisce in più questo perché sul se abbiamo davanti il seno quindi la maglia tende a lavorare ora per le taglie più grandi io vi consiglio se avete messo lo stesso numero di catenelle mie di aver fatto sicuramente un vi consiglio di fare un aumento in più rispetto a me quindi un totale di 4 aumenti e di andare a dividere come ho diviso io quindi 3 per ogni manica 5 avanti e 4 dietro se invece avete fatto un aumento di quello che vi ho consigliato quindi a 4 avete 4 strisce in più rispetto a me avrete metterete quattro motivi per maniche 6 motivi di avanti 5 motivi dietro però io ripeto come vi avrò detto anche all'inizio io vi ho consigliato di non fare più catenele anche perché lo scolo è bello largo quindi è meglio andare a fare più aumenti piuttosto che ritrovarvi poi e che sfarfalla troppo e alla vostra lavorazione quindi io è il consiglio che vi ho dato bene detto ciò adesso andiamo a vedere come lavorare il corpo della manica e io al momento non dovrò fare gli aumenti gli aumenti poi li andrò a rifare quando arriverò ad altezza fianchi per allargare la mia a mio vestito e farlo quindi ampio sotto e in quel caso naturalmente farò lo stesso momento che ho fatto per le strisce non so se farò una striscia sì una striscia ma o se farò le strisce quello lo deciderò quando me lo indosserò per capire quanto voglio che si allarga la conna però a questo punto possiamo quindi iniziare a fare il corpo della nostra maglia scusate del nostro vestito come vi ho detto io ho fatto in modo appunto di avere l'inizio del giro dove è il primo marca punti in modo tale da poter lavorare scusate da poter lavorare direttamente dove ho il marca punti e chiudere la mia lavorazione ora quindi io entro nell'archetto del ventaglio cioè scusate vado prima a fare i due catenelle entro dentro l'archetto del ventaglio e vado a fare l'altra mia maglia alta non chiusa le chiude insieme catenella di separazione vado nel ventaglio della parte dietro quindi vedete e di nuovo ad affare due maglie alte non chiuse e le chiudo così ho chiuso il mio giro perché poi naturalmente nel giro successivo quando andrò a chiudere la lavorazione all'interno qui del 20 dell'archetto di una catenella farò il mio ventaglio e tornerò a lavorare normalmente quindi adesso continua a lavorare faccio la catenella vado direttamente tra le due maglie alte successive e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse quindi il lavoro normalmente fino ad arrivare al mio marca punti successivo e farvi vedere anche in quel caso come passare poi dalla parte dietro alla parte avanti mi raccomando seguite bene il vostro giro o fate con me che dovuto sfilare due volte perché qui dove faccio dove devo fare un solo gruppo di due maglie alte ne sono andata a fare due sto arrivando dove ho il mio secondo marca punti ho fatto l'ultimo gruppo di due maglie alte e la catenella di separazione e quindi anche in questo caso prendo il filo entro nell'archetto del dietro e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse e le chiude insieme catenella di separazione vado nell'archetto del davanti e di no due maglie alte non chiuse e le chiude insieme e quindi possa andare a togliere il mio marca punti quindi qua ho la mia manica e qui il corpo della maglia quindi continua a lavorare mi raccomando anche in questo caso la lavorazione del giro successivo noi qui andremo a fare il nostro sempre ventaglio quindi due maglie alte chiuse insieme catenelle 2 maglie alte e poi lavoreremo seguendo sempre il nostro motivo e termineremo il giro andando a fare una maglia bassissima e poi si ricomincerà a lavorare quindi questo è il giro che va sempre ripetuto mi raccomando se dovete fare degli aumenti dovete fare come se abbiamo fatto per il corpo della maglia scusate come lo sprone della maglia quindi ricominceremo a fare in questo centrale qui la maglia alta quindi primo dei nostri tre giri che vanno ripetuti per poi fare la lavorazione io per adesso continuo a lavorare senza fare aumenti gli aumenti li farò come vi ho detto ad altezza dei fianchi e quindi naturalmente video quanto rivolto ripetuto questo giro e poi vi dirò se ho fatto l'aumento in tutti i miei spicchi ecco chiamiamoli spicchi o se alternato uno spicchio sia uno spicchio no o se ho fatto gli aumenti solo nei spicchi laterali devo vedere un po a seconda di quanto voglio fare morbida e larga e la gonna di questo vestito e naturalmente anche perché abbiamo una cake grossa quindi io devo farla fuori tutto e sapete che il mio fisico è molto esile mingherlino quindi magari devo fare tutto l'aumento per poterlo finire e fare che il vestito non venga troppo lungo perché non voglio che mi arrivi veramente troppo giù quindi vedrò un po di fare questo ma naturalmente io poi vi spiegherò tutto quello che sono andata a fare allora io ho terminato il mio vestito e vi dico già che io dallo scafo ho fatto 25 giri e nel venticinquesimo giro sono andata a fare il mio aumento lamento io l'ho fatto in tutte le strisce perché appunto come dicevo volevo che sotto forse largo quindi l'ho fatto in tutte le strisce quindi da ogni striscia o appunto il mio aumento e poi il dall'aumento ho fatto altri 23 giri quindi non ho contato i due giri dell'aumento ma sono andata c'è il 3g dell'aumento ma dopo ne ho fatti 22 si 22 giri scusatemi quindi ripeto 25 agli scalfi ho fatto poi il momento e poi altri 22 giri uguali quindi il mio vestito è terminato